ciao ragazzi ecco c'è la reggia di ludwisburg come di consueto siamo qua la mattina del 19 luglio ecco qua l'ingresso vedete noi abbiamo di qua la strada che ora ha il volo verso destra adesso andiamo a prendere il biglietto però c'è poca gente oggi perlomeno forse perché in settimana ma anche l'altra volta boh di solito qua è pieno di pulma beh non proprio sempre 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 però spesso e volentieri ci sono quindi l'ingresso poi noi andremo a visitarlo c'è una porta sulla destra mentre adesso attenderemo perché penso che sia verso la prossima visita e però un saluto da qua